Comfartigianato Vicenza ha voluto indagare sulle cause del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in alcuni settori della piccola impresa. I risultati sono stati presentati in settimana. Un questionario ad un campione di 400 imprese della categoria metalmeccanica ed elettromeccanica per disporre di informazioni tali da orientare meglio le attività che l'associazione promuove nell'intento di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il 46,3% delle imprese del settore prevede di assumere nuovo personale. Le assunzioni previste sono finalizzate all'incremento stabile dell'organico aziendale, 51,1%, e alla copertura di picchi di lavoro, 28,5%. Solo in parte sono dovute a questioni di turnover dei lavoratori, 31,5%. Le figure più ricercate sono quelle destinate alla produzione, addetti alle macchine utensili, addetti agli impianti e ai processi metallurgici, tecnici meccanici, addetti alle aree di progettazione. Si è voluto accertare, ci ha detto Ezio Zerbato, presidente della categoria metalmeccanica, quali fossero le figure professionali richieste dagli imprenditori, anche nella prospettiva di poterli aiutare ad affrontare un'evoluzione che impone al settore un utilizzo sempre più spinto delle nuove tecnologie. Un impegno, quello di Confartigenato, che comporta una sempre maggiore collaborazione con la scuola, perché l'attività formativa sia in linea con le esigenze del mondo produttivo. Noi come impresa dobbiamo sicuramente metterci a disposizione per aiutare sicuramente i ragazzi, anche quelli non più giovani magari, a inserirli in questo percorso di formazione, perché la formazione è innanzitutto la cosa primaria per poter poi inserirsi in questo nostro mondo, che è la meccanica. La piccola impresa ha molto da offrire ai giovani, perché le sue caratteristiche organizzative danno modo al lavoratore di acquisire competenze che abbracciano tutto il ciclo produttivo, condizione che certamente favorisce la crescita professionale e la possibilità di coltivare progetti legati ad obiettivi ambiziosi. Sicuramente un ragazzo, chiamiamolo così, che entra nelle nostre aziende, ha solo la possibilità di crescere. Più riesce a dare lui personalmente all'azienda, più l'azienda si sente orgogliosa di farlo crescere, di farlo maturare. È indispensabile che i giovani, per non dire le famiglie, conoscano il vero volto dell'odierna piccola impresa, anche per sfatare qualche pregiudizio. È uno dei problemi che noi abbiamo, farci conoscere effettivamente. Ecco qui che dobbiamo intervenire noi in primis, sicuramente, portandoli nelle aziende con gli stage, con l'eternanza scuola e lavoro, per fargli vedere che il nostro è un lavoro altamente professionale e che oltretutto dà delle grandi soddisfazioni. Confartigianato, inoltre, ha in servo il progetto di allestire un percorso per aiutare le imprese a diventare e a mostrarsi quali poli attrattivi, capaci di garantire competenze professionali di eccellenza e immediata occupazione, in un ambiente lavorativo sicuro, gradevole, in grado di assicurare miglioramento professionale e crescita personale. Grazie. Grazie a tutti.